Dopo l'esibizione vincente di Martina Attili, c'è un'altra giovanissima pronta a scalare le vette del successo. Camilla Musso è salita sul palco per le audizioni di X Factor il 13 settembre dimostrando, nell'aspetto, tutta la sua giovane età, 16 anni appena tuta blu e una semplice t-shirt, capelli neri, ma solo sulla metà destra, a sinistra la chioma è argentata. È accigliata e senza sorriso prima di iniziare a cantare, ma durante la sua interpretazione, che ha lasciato tutti a bocca aperta, l'allegria le ha illuminato il volto da bambina. Il giudizio dei giudici sei un caso raro hai mille anime, mille persone, mille voci dentro. Ci sono mille colori nella tua voce, è riuscita a dire Asia Argento con voce rotta dalla commuzione, così come lo è quella della collega Mara Maiorchi, che ha aggiunto anche hai cantato una canzone da grandi, e l'hai fatto in maniera ineccepibile. Non ha tardato ad arrivare la standing ovation richiesta da Fedez e sulla sua maglietta la scritta Demi, Your Eyes Accident, i tuoi occhi è quasi profetica, perché dagli occhi lucidi di Camilla finita l'esibizione si comprende tutta la sua gioia adolescenziale. . Anche Manuel Agnelli ha ammesso che Camilla è eccezionale rappresenta un raro caso di interpretazione in cui è consentito soprassedere sull'intonazione imperfetta, una dote che hanno in pochi secondo il frontman degli after hours. Il voto non può che essere un anime sì, Camilla Mussoa l'xfactor. Un talento nascosto sui social di Camilla non sappiamo molto ha 16 anni e vive ad asti. Sui profili social, aperti solo in agosto si preparava forse al successo televisivo? Lo scopriremo, non c'è molto. Solo qualche foto che promuove la puntata del talent che la vede protagonista, ma dalle stories di Instagram si può sbirciare una nuova, folle, pettinatura. .